E' un orgoglio, è una cosa che ho sempre voluto, che sin da bambino ho pensato di indossare l'unica maglia e fortunatamente ci siamo riusciti. E' riuscito a passare, occasione, tolti, come dentro c'è il gol! A livello personale è continuare quello che sto facendo. Anche perché quando sei cosciente di aver dato tutto, per questa maglia vuol dire che stai a posto con la coscienza, perciò quando esci con la maglietta sudata non c'è niente da recriminare. Slippi con la maglia. Slippi con la maglia. Può che si fai? Totti! Francesco Totti è un genio! Slippi con la maglia! Slippi con la maglia! Slippi con la maglia! Slippi con la maglia! Grazie a tutti.